Ma perché ti ha lasciato? Chi? La tua ragazza. Ah, Maria? Beh, Maria mi ha lasciato... Perché a un certo punto l'uomo defida la decisione, la sua decisione. E io ho deciso, cioè ho deciso che lei mi lasciasse. Gli ho detto lasciami, e lei mi ha lasciato. Mi ha lasciato, però l'ho deciso io. Perché se lei mi avessi detto ti lascio, questo l'ho deciso io. E infatti ho deciso che lei mi lasciasse. Mi ha lasciato, però l'ho deciso io. Perché se lei mi avesse detto ti lascio... Come ti lascio? Come ti lascio? No, ma tu mi lasciate. Questo l'ho deciso io. E infatti io ho deciso che lei mi lasciasse. Ma l'ho lasciato, però l'ho deciso io. Perché a un certo punto l'uomo si deve far sentire, capito? Perché l'ultima decisione... Aspetta, chi aspetta? Aspetta all'uomo. Perché se l'ultima decisione la piglia la donna, vuol dire che all'uomo gli rimane la penultima decisione. E a un uomo serio gli importa una sega della penultima decisione. Come ti capisco, Vinicio? Anche in casa mia, vedi, non si vive più. Perché anche la mia moglie, capito, l'ha ancora piena di energie. E lei la vorrebbe... Ma io te lo sai, insomma, è stato un gran... Specialmente dopo la malattia che aveva il bambino. E lei non lo sapeva. Ma l'ha mai voluto figliare lo stesso. La credeva che fosse una scusa per non sposarla. E ora va a farglielo sapere. Io glielo ho detto. Te l'avevo detto. Te l'avevo detto. E allora ragazzi. Grazie a tutti.